Sono cominciate ufficialmente questa mattina le ricerche di Antonio Moscatiello di Cervinara, l'uomo scapo, l'operaio che vive da solo nella sua abitazione di Rione San Pietro. Da sabato ha fatto perdere le sue tracce. È stata la sorella che quotidianamente assiste il fratello preparandogli da mangiare nelle faccende domestiche a recarsi dei carabinieri per riferire della scomparsa del 58enne. In paese molti si sono attivati prima delle ricerche ufficiali ma dell'uomo non vi è traccia. In seguito alla denuncia della famiglia si è attivato anche il sindaco Caterina Lengua si è messo in contatto con la prefettura di Avellino per chiedere l'attivazione del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Con il passare delle ore la preoccupazione dei familiari di Antonio Moscatiello aumenta a causa delle temperature torride che soprattutto in questi giorni non danno tregua e soprattutto perché a distanza ormai di quattro giorni ci sono solo segnalazioni da parte di persone che lo hanno visto sabato nei pressi di via Roma. L'ultimo avvistamento in verità sarebbe avvenuto dopo le 22.30 quando il 58enne secondo un testimone camminava lungo la variante che da Cervinara conduce a San Martino Valle Caudina. Sono ore di angoscia per la sorella dell'uomo che teme per le sorti del fratello le cui condizioni psichiche ultimamente erano anche peggiorate per le ricerche. Si attende l'arrivo di un elicottero e dei droni.